Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Trovate tutti i link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi del caso di Sabrina Beccalli, operaia 39enne, residente nel quartiere di San Bernardino, a Crema, e madre di un ragazzino di 15 anni, scomparsa proprio da Crema la mattina di ferragosto del 2020. L'automobile di Sabrina viene ritrovata nelle campagne di Vergonzana, frazione del cremasco, nei pressi di una cisterna di liquami. La macchina però è stata bruciata, ne rimane ormai soltanto la carcassa, e le ricerche partono da questa zona, impegnando protezione civile e vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della compagnia cittadina che coordinano le operazioni. Una delle sorelle di Sabrina, intervistata da TG Com24, mostra di non avere dubbi quando esclama «L'hanno uccisa! Era felice!» Prosegue. «Aveva trovato da poco un lavoro nuovo, se qualcuno l'ha vista, contatti i carabinieri». E ancora spiega. L'aspetto che ci preoccupa di più e che ci fa pensare al peggio è il fatto che non abbia contattato il figlio, con il quale ha un legame speciale. Quella mattina di ferragosto, infatti, Sabrina ha accompagnato Omar, il figlio quindicenne da alcuni amici a Milano. Poi avrebbe dovuto passare a riprenderlo verso mezzogiorno per pranzare insieme in provincia di Bergamo, ma non è mai arrivata a recuperarlo. Per i parenti di Sabrina è impensabile che lei si sia allontanata volontariamente, abbandonando il figlio che amava e di cui da madre separata si era sempre presa cura da sola. I servizi sociali e i centri di ascolto della zona l'avevano seguita proprio per supportarla nella riuscita della gestione familiare. La procura di Cremona, guidata da Roberto Pellicano, dispone il sequestro dell'abitazione di Sabrina, dando avvio ai rilievi scientifici all'interno della casa nel tentativo di fare luce sul giallo della sparizione della donna. Intanto, l'indagine condotta dal nucleo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Cremona procede con l'ascolto di numerosi testimoni, amici, familiari e conoscenti della donna. All'interno dell'automobile bruciata viene rinvenuto il cadavere carbonizzato di un cane. Un fatto non solo orribile, ma anche strano perché Sabrina non aveva animali. Dunque, di certo, quel cane non apparteneva a lei. Nei campi vicini al luogo dove è stata trovata la vettura, proseguono le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione, anche con l'ausilio di cani molecolari. Il 19 agosto, a quattro giorni dalla scomparsa di Sabrina, si delinea una pista che sembra decisiva per la risoluzione di questo giallo. Al volante della panda di Sabrina c'era un uomo che, immortalato dai filmati delle telecamere di sorveglianza, viene rintracciato e ascoltato sino a notte fonda dai carabinieri del reparto investigativo di Cremona. Infatti, sulla base degli elementi investigativi raccolti, prodotti dal nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cremona e dell'aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Cremona, il dottor Roberto Pellicano, procuratore capo di Cremona, dispone per questo soggetto il fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato associato alla casa circondariale di Cremona. Gli vengono contestati reati di omicidio e distruzione di cadavere, ma lui si avvale della facoltà di non rispondere. Emerge che il fermato conosceva Sabrina da tempo, era un suo amico e, a distanza di qualche giorno, viene reso noto il suo nome. Si chiama Alessandro Pasini, 45enne di Cremona. Si ipotizza che l'ultima traccia di Sabrina Beccalli, che consiste in un messaggio WhatsApp da lei inviato a un'amica verso le 4 del mattino di Ferragosto, risalga poco prima che la donna uscisse di casa per incontrare proprio Alessandro Pasini. Una delle ultime persone a vedere Sabrina viva è stato Matteo Zohu, il gestore del bar Sombrero, che parla di lei come se fosse ancora in vita. È una mia cliente abituale, viene qui da circa 4 anni, sempre in compagnia e di solito la sera. Il locale, molto noto e frequentato dai cremaschi, si trova all'incrocio di due importanti strade cittadine, Via Indipendenza e Via Boldori, l'arteria che porta alla Gronda Nord e alla provinciale per Treviglio. Mi ricordo quando Sabrina è arrivata, prosegue nel racconto Matteo. Erano circa le 23.30 del 14 agosto ed era in compagnia di un uomo, un suo amico. Ogni tanto erano qui insieme. A volte invece veniva qui al bar con Alessandro Pasini, ma per quanto mi ricordo di pomeriggio o di sera presto. Le indagini della procura di Cremona e dei carabinieri si prefiggono l'obiettivo di stabilire come e perché Alessandro Pasini, con problemi di sostanze e con precedenti per fare il corriere delle sostanzine, rapina e resistenza abbia ucciso Sabrina. L'omicidio non sembra legato a motivi sentimentali e si considerano le implicazioni legate all'uso di sostanze. Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, rilascia alle pagine del giornale La Provincia una riflessione personale sul tragico evento che si è verificato in città. Saranno gli inquirenti che, insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile, lavorano senza sosta a spiegarci i contorni della drammatica vicenda di Sabrina, ma ciò che ormai appare assai probabile, come purtroppo i suoi cari avevano già presagito, è che la nostra concittadina non si sia allontanata volontariamente da casa, né abbia deciso di togliersi la vita, ma sia stata ammazzata. Presumibilmente da una persona, un uomo, che lei considerava vico. Un fatto tristissimo che sconvolge la nostra comunità a teatro in queste settimane di alcune vicende che ci lasciano sconcertati e affranti. Intanto è giusto e doveroso esprimere affetto e vicinanza al figlio minore di Sabrina, che in queste ore, lontano da Crema con il papà, ci auguriamo resti almeno un poco al riparo dal pur legittimo clamore che questo dramma sta suscitando. Affetto e vicinanza che si estendono anche a Simona, Teresa e Gregorio. I fratelli di Sabrina, con tutti i loro familiari che dal campo base allestito a Vergonzana, non hanno smesso un attimo di seguire gli sviluppi delle ricerche, coltivando comunque quella speranza che di ora in ora va affievolendosi. Al contempo è importante una riflessione di tutti noi, istituzioni, realtà associative, cittadini, perché è giusto interrogarci su questo e altri recenti, drammatici episodi accaduti nella nostra città. Una realtà di cui andiamo di solito orgogliosi, la nostra Crema perché è una comunità operosa e solidale, a misura d'uomo, in cui ci si conosce e ci si chiama per nome. Credevamo di essere immuni ad episodi come questi, pensavamo che queste brutture potessero accadere solo in luoghi lontani, diversi. Invece le ritroviamo fra di noi, a minare le nostre certezze, le nostre ingenuità, anche la nostra presunzione, qui esattamente come altrove. Da sindaca, ma anche da madre e da cittadina, non posso nascondere, oltre alla tristezza, un senso di fallimento per questi eventi. Doveroso chiederci tutti quanti se abbiamo fatto davvero abbastanza, se non ci fosse altro che potevamo mettere in campo, se nel nostro affannarci quotidiano non ci sia sfuggito qualcosa. Chiedercelo per Sabrina e per le tante situazioni come la sua, magari di solitudine, di fragilità, di marginalità, che esistono fra di noi, fra le mura delle nostre case, nei nostri quartieri, nella nostra città. Mentre ci auguriamo che, se le indiscrezioni di quest'ore saranno purtroppo confermate, chi si è macchiato di questo terribile gesto venga assicurato alla giustizia, perché questo deve accadere per la civiltà e il diritto, non per vendetta. Credo che la vicenda di Sabrina debba seriamente accompagnarci a una riflessione su come possiamo ulteriormente crescere e migliorare sul nostro stare insieme, come persone e comunità. Il 20 agosto, il PM Elisa Saccaro, della procura di Cremona, guidata da Roberto Pellicano, chiede la custodia cautelare in carcere a carico di Alessandro Pasini. Si ritiene infatti che potrebbe commettere altri reati della stessa natura, inquinare le prove e fuggire. La Casa dell'Uomo è sotto sequestro per consentire i rilievi scientifici del RIS. L'udienza di convalida del fermo con l'interrogatorio viene fissata per il pomeriggio del 21 agosto. Il GIP Giulia Masci dovrà dunque esprimersi sulla convalida e sulla misura cautelare chiesta dai PM. Durante l'interrogatorio Pasini racconta di aver trovato Sabrina, priva di vita, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, stroncata da una overdose nel bagno dell'appartamento della sua ex, in via Porto Franco. Riferisce di aver poi caricato il cadavere avvolto in una coperta nella panda e di averla bruciata. Quei resti, dichiara nell'interrogatorio davanti al GIP Giulia Masci, non sono di un cane, ma di Sabrina. Una versione dolorosa e sconcertante. La notizia è atroce per i familiari di Sabrina, visto che i reperti identificati come quelli di un cane, nel frattempo sono stati smaltiti, distrutti nell'inceneritore cittadino dopo il nulla osta della procura. Tuttavia, gli inquirenti intendono continuare a indagare per accertare dove effettivamente si è finito il corpo della donna. Nell'appartamento del quartiere di Castelnuovo, Pasini si era introdotto all'insaputa della ex compagna con cui aveva rotto da dieci anni. L'aveva fatto utilizzando la copia delle chiavi che ancora conservava. La mattina successiva, alla scoperta del cadavere, Pasini si era spostato più volte. Dapprima, recandosi a un distributore per comprare del gasolio e poi tornare a casa. A mezzogiorno, con il corpo di Sabrina ancora presente nell'appartamento, era andato a mangiare in trattoria insieme agli amici e, una volta rientrato, aveva infilato il cadavere nell'auto e aveva raggiunto vergonzana. Dopodiché, era tornato a casa per dare una pulita. Infine, aveva appiccato il fuoco alla panda alle 21. L'avvocato Paolo Sperolini, difensore di Pasini, commenta l'interrogatorio di garanzia a cui è stato sottoposto Alessandro nel carcere di Cremona, dicendo Ha collaborato, fornendo la sua versione dei fatti che attendono di essere suffragati da indagini tecnico-scientifiche. Si ha confessato il delitto? No. Si ferma volutamente qui e non aggiunge altro. Per non lasciare nulla di intentato, il 22 agosto a Vergonzana iniziano i preparativi per analizzare la cisterna di Liquami, nella quale gli inquirenti ipotizzano si possa trovare il corpo di Sabrina. È previsto che si compia in due giorni il parziale svuotamento della vasca dei Liquami, posta sotto sequestro dai carabinieri, per poi procedere con l'attività del sondaggio nel tentativo di trovare il corpo della donna sempre che sia stato nascosto nella cisterna. Intanto Alessandro Pasini deve restare in carcere in quanto il GIP di Cremona Giulia Masci all'indomani dell'interrogatorio di garanzia non ha convalidato il fermo dell'interrogatorio ma ha deciso di applicare la custodia cautelare in carcere. Gli inquirenti ipotizzano che Sabrina in realtà sia stata vittima di un delitto perché aveva rifiutato un'avance intima di Pasini. A questo proposito il comandante provinciale dei carabinieri di Cremona Lorenzo Carlo Maria Repetto spiega che il RIS ha rilevato tracce utili nell'abitazione in cui all'insaputa della proprietaria in vacanza altrove i due si sono trovati per consumare sostanze. La tesi di Pasini è che la donna sia morta per un malore o overdose ma noi pensiamo che questo non sia successo. Ma c'è di più il rischio che si verificasse una strage. Infatti quando i carabinieri si recano nell'abitazione della ex di Alessandro Pasini presunto luogo del delitto si accorgono che l'uomo aveva tagliato il tubo del gas della caldaia. Il comandante Lorenzo Carlo Maria Repetto racconta l'ambiente era saturato da quattro giorni di gas solo per il fatto che per entrare abbiamo dovuto chiamare i vigili del fuoco che sono entrati dalla finestra e il gas è uscito. Non è successo un disastro bastava che qualcuno entrasse dalla porta e accendesse la luce e veniva giù tutta la palazzina in cui c'è un'altra famiglia. Lo ha fatto perché voleva cancellare le prove ha ammesso di aver tagliato il tubo per quel motivo credo che il PM valuterà anche l'ipotesi di reato di tentata strage. Sulla versione della morte per overdose si esprime anche un'amica di vecchia data di Sabrina Rosa Amoruso che la descrive come una persona solare e non accetta che la parola tossicodipendente le sia attribuita. L'ultima volta che ha visto Sabrina erano solo poche settimane prima e le era sembrata felice hanno parlato dei loro figli e Sabrina le ha detto di essere contenta della loro amicizia cioè dell'amicizia dei due figli e anche della loro perché teneva molto al fatto che il ragazzo suo figlio avesse delle belle frequentazioni la donna sostiene di non aver percepito nulla di strano in lei insomma non affiora alcuna traccia della depressione di cui si è inizialmente parlato con un'altra conferma del fatto che Sabrina apparisse serena anche per via del nuovo lavoro da intraprendere Rosa parla di una donna che sicuramente non ha avuto dei momenti facili nella sua vita soprattutto da giovane che però ha saputo reagire e crescere un figlio da sola ma ora torniamo a sabato 15 agosto sono le 5 del mattino e sul numero di emergenza 112 arriva una telefonata da parte di una donna che abita in via Porto Franco accanto alla casa della ex convivente di Alessandro Pasini informa i carabinieri di aver sentito provenire da quella casa delle urla sofferenti di una donna che con voce strozzata gridava più volte aiuto aiuto no non è intervenuta per paura inoltre la stessa testimone oculare verso le 14 14 e 30 si era affacciata alla finestra del balcone posto proprio di fronte all'appartamento dell'ex fidanzata di Pasini e lo aveva nuotato transitare lungo via Porto Franco con il suo monopattino le dichiarazioni della donna scrive il GIP sono senz'altro attendibili considerando che Costei ha allertato immediatamente le forze dell'ordine deve ritenersi che la voce strozzata partenesse certamente a Sabrina che tuttavia se avesse avuto un malore non avrebbe avuto motivo di chiedere aiuto urlando ad altavoce seguito dal no come voler chiedere di interrompere un'azione in atto tuttavia verrà poi valutato dal giudice che empiricamente una persona sia aggredita dovrebbe gridare di più il 23 agosto emerge che il corpo di Sabrina Beccalli non si trova nella cisterna di Liquami secondo la procura della repubblica che ha ordinato l'arresto e secondo il GIP che ha confermato la necessità di tenerlo in carcere Pasini ha dato ampia dimostrazione di essere un soggetto disposto a tutto con una sconcertante assenza di freni inibitori ai propri impulsi violenti e una pervicacia nell'eliminare meticolosamente le tracce dei reati commessi una persona lucida e spregiudicata capace dopo aver ucciso Sabrina di provocare una strage questo oscuro ritratto di Pasini è lontano anni luce dall'immagine che dava di se stesso sul suo profilo facebook sui social appare come un esteta attento al proprio look barba e baffi curati occhiali fashion chiodo in pelle alla moda un amante dei viaggi e un tipo autoironico la foto del profilo è un avatar in cui spiccano gli occhi azzurri e i tatuaggi sulle braccia gli stessi che hanno consentito alla testimonia di riconoscerlo come l'uomo sul monopattino che ha transitato per due volte in via albergoni prima e dopo aver incendiato la panda di Sabrina insomma un uomo carismatico amante di un buon boccale di birra magari giusto un po' spaccone perché si concede battute da macio sensibile al fascino del lato B delle donne fra tanti selfie a fotoricordo il 16 luglio 2019 aveva condiviso una citazione cinematografica ossia ho chiesto all'inferno se c'è posto per me mi hanno risposto che non vogliono problemi grazie al luminol il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri individua tracce di sangue nel bagno e sul pianerottolo dell'appartamento di crema con cui come detto si sospetta che Sabrina Beccalli sia stata uccisa da Alessandro Pasini il 25 agosto tra le ipotesi d'accusa carico di Alessandro si aggiunge crollo di costruzioni l'autopsia sul cadavere di Sabrina di certo potrebbe dare risposte più chiare su come sia stata uccisa ma anche se non venisse ritrovato sul piano probatorio gli indizi nei confronti di Pasini sono concreti il corpo si continua a cercare soprattutto per restituirlo ai familiari carabinieri magistrati sono convinti che possa essere il cellulare di Alessandro Pasini a condurli sino al nascondiglio da lui individuato l'incarico di analizzare l'apparecchio è stato conferito a un perito a cui spetta il compito di ripercorrere gli spostamenti di chi aveva in tasca il telefonino seguendo le tracce lasciate nelle celle telefoniche utilizzando le più sofisticate tecnologie dovrebbe essere in grado di tracciare un preciso itinerario il 26 agosto grazie a nuovi accertamenti a casa della donna e poi in quelle di Pasini i RIS di Parma trovano altre tracce di sangue in particolare su un paio di scarpe dell'uomo scoperte tramite il luminol al contrario nell'abitazione di Sabrina non emergono elementi utili ma rimane da chiarire l'origine di una macchia rinvenuta sul divano a poche ore dalla scomparsa della donna infatti il figlio 15 anni accompagnato da un parente era entrato in casa per cercare la madre e aveva notato un ventilatore acceso puntato sul divano dove era presente il segno di seduta ancora umido e in apparenza recente il 27 agosto si tiene un vertice in procura per fare il punto sull'inchiesta e fissare le tappe successive come detto le ricerche del corpo della donna non sono state sospese e viene valutato di acquisire le immagini satellitari per cercare delle tracce l'ipotesi di utilizzare la tecnica di scansione geografica del territorio basata su fotogrammi scatti del satellite è stata proposta durante l'incontro tra il procuratore Roberto Pellicano il PM Lisa Saccaro e i carabinieri poi al vaglio degli inquirenti tuttavia stando alla versione di Pasini i resti trovati nell'abitacolo della Fiat Panda non appartenevano a un cane come ritenuto dagli investigatori e in base alla perizia di due veterinari ma erano di Sabrina Beccalli la procura dato che tutte le ricerche effettuate non hanno dato alcun esito ormai non escude che si possa davvero trattare di resti umani a ispezionare di nuovo la Fiat divorata dal fuoco è il sostituto procuratore Lisa Saccaro titolare del fascicolo ma pure l'anatomopatologa Cristina Cattaneo i reperti superstiti scampati allo smaltimento vengono quindi portati in laboratorio per ulteriori approfondimenti si tratta di alcuni frammenti ossei compresa una mandibola di dimensioni minute a cui è ancora attaccato un piccolo dente l'avvocato di Alessandro Pasini Paolo Sperolini dà credito a quanto sostenuto dal suo assistito quelle ossa presenti nell'abitacolo dell'auto data alle fiamme possono benissimo essere quelle di Sabrina afferma la convinzione dell'avvocato poggia su quanto si rileva da una prima analisi eseguita da un medico legale incaricato proprio dalla difesa Angelo Grecchi un consulente di massimo livello i carabinieri del RIS prosegue l'avvocato Sperolini sono andati a eseguire rilievi anche nella panda e hanno repertato le ossa trovate che verranno analizzate nei prossimi giorni il mio consulente che ha eseguito una valutazione provvisoria delle immagini fotografiche non ha avuto dubbi almeno una di quelle ossa non può non appartenere a un essere umano non è di un cane il che rafforza la tesi di Pasini si tratta di una prima approssimativa valutazione ho comunque informato al vaglio sarebbe una clavicola osso non appartenente a un cane che segnerebbe la svolta del giallo cremasco ovviamente sarà l'esame del dna a fornire o meno conferme il 7 settembre si riscontra l'assenza di tracce di sostanze nell'appartamento di via portofranco in cui è morta Sabrina mentre l'11 settembre emerge che non c'è sangue soltanto sul pianerottolo ma pure lungo le scale della palazzina e in quantità cospicua sulla rampa si evidenziano più tracce di quante sono state individuate nel bagno dove la ricostruzione dell'indagato colloca la morte per overdose di Sabrina Beccalli a questo punto c'è un risvolto ancora più cruciale perché è accertato che i resti trovati nella panda carbonizzata sono umani e non di un cane frammenti ossei appartenenti agli arti inferiori e superiori e frammenti del cranio si attende solo la comparazione del dna per fugare ogni dubbio sull'identità di Sabrina sui pochissimi tessuti rimasti c'è poi un altro esame fondamentale da eseguire quello tossicologico per la famiglia Beccaglia l'avvocato Antonino Andronico a seguire l'inchiesta con l'ausilio del generale in congedo del RIS Luciano Garofano nella qualità di esperto Garofano ritiene che i resti ritrovati siano molto utili per stabilire se possano essere state inferte ferite o danneggiamenti intanto le analisi eseguite nei laboratori dei carabinieri del RIS stabiliscono che il sangue rinvenuto sia sul balcone che sulle scale dell'abitazione di via Portofranco è sia maschile che femminile questo potrebbe significare che Alessandro ha avuto una collutazione con la donna avvalorando la tesi degli investigatori convinti che Sabrina sia stata uccisa per aver rifiutato delle avance l'avvocato Paolo Sperolini messo al corrente dei possibili ultimi sviluppi afferma non mi risulta affatto che al momento dell'arresto il mio assistito presentasse graffi o altre lesioni riconducibili a violenza fisica illegale esclude quindi possa esserci stata questa collutazione tra l'uomo e la donna il 2 ottobre di nuovo in via Portofranco nell'abitazione dell'ex compagna di Alessandro Pasini viene condotto un nuovo accesso giudicato utile durato diverse ore e al termine del quale sono stati raccolti nuovi elementi i militari con indosso alla tuta bianca si sono concentrati soprattutto nel bagno dove secondo la ricostruzione di Pasini l'indagato avrebbe trovato la donna priva di vita con bocca e naso coperte di sangue ricercando possibili nuove tracce ematiche i militari dell'arma hanno intensificato le indagini con il luminol nella vasca da bagno poi ancora sul pianerottolo e lungo le scale il 14 ottobre il giallo si arricchisce di nuovi particolari nell'abitazione dell'ex convivente di Alessandro Pasini viene trovata una roncola l'attrezzo agricolo è sequestrato e analizzato dai carabinieri del RIS ebbene sulla lama non risultano tracce di sangue ma sull'impugnatura sì intanto emergono i risultati della perizia di 246 pagine eseguita sul cellulare di Sabrina che conferma la versione fornita da Alessandro conferma anche gli spostamenti dell'uomo nel giorno di ferragosto tutti concentrati tra San Bernardino e Vergonzana o meglio il suo cellulare è sempre stato agganciato a quelle celle telefoniche tra Sabrina Beccaglia e Alessandro Pasini ci sono state diverse telefonate e nessun messaggio scritto in sole due ore e 18 minuti quelle che precedono il loro incontro nell'abitazione dell'ex convivente dell'indagato si sono parlati o hanno tentato di farlo per ben 26 volte nel dettaglio per 15 volte Sabrina ha chiamato lui mentre per 11 volte la telefonata è partita dal cellulare dell'uomo quasi una frenesia va però sottolineato che solo 4 volte sono riusciti effettivamente a parlarsi per concordare dove e quando incontrarsi e cosa avere a disposizione delle 4 telefonate utili solo una ha una durata superiore al minuto viene poi confermato pure che il primo contatto tra i due ha avuto luogo attraverso una terza persona un tale di nome Luigi degli Angeli dal cellulare di Sabrina sempre in quelle ore sono partite anche altre telefonate il tutto concentrato in un lasso di tempo ristretto non è escluso che queste altre telefonate fossero indirizzate e chi poteva procurare loro le sostanze al riguardo si aspetta l'esito dell'esame tossicologico alle 4 e 18 in ogni caso Sabrina era ancora viva e a testimoniarlo è l'ultima chiamata a Pasini prima che il suo cellulare si spegnesse per sempre ho 39 anni e sono un insegnante abito a crema insieme ai miei figli di 3 e 14 anni dal 16 agosto mi trovo catapultata ingiustamente in una situazione drammatica non dispongo più della mia abitazione della quale ero locataria né dei miei oggetti e mobili si apre così la lettera affidata dalla ex fidanzata di Alessandro Pasini alla Onlus Friulana i nostri diritti nella quale la donna ha trovato supporto e pubblicata sulla pagina Facebook dell'associazione da quando il compagno col quale aveva già troncato la relazione è finito in carcere con l'accusa di aver assassinato l'amica Sabrina Beccalli distruggendone il cadavere Susanna Lipani non aveva mai parlato dell'incubo che l'ha risucchiata nel mio appartamento si è consumato un delitto all'alba del 15 agosto una donna mia conoscente è stata uccisa e l'assassino sarebbe il mio ex fidanzato era ex già all'epoca dei fatti lo avevo lasciato definitivamente in vacanza in Sicilia a causa dei suoi atteggiamenti violenti e del suo stato perennemente alterato dall'alcol e probabilmente anche dalle sostanze Susanna Lipani nel suo scritto sottolinea ha reciso il tubo della caldaia del mio appartamento mostrando un forte intento omicida anche verso di me io e i miei figli saremmo saltati in aria rientro dalla Sicilia fra i tanti misteri che alleggiano sulla morte di Sabrina se ne inserisce uno che pare destinato a rimanere tale perché uscendo di casa dopo le 4 nella notte tra il 14 e il 15 agosto aveva lasciato la porta aperta e non solo i carabinieri nell'appartamento di via Enrico Martini avevano trovato pure la luce e il ventilatore accesi chiari indizi che la 39enne prevedesse di rientrare rapidamente tuttavia la soglia di quel bilocale non l'ha mai più uvarcata un interrogativo al quale è inevitabilmente legato il destino giudiziario di Alessandro Pasini dalle analisi degli esperti risulta che il sangue lavato accuratamente ma evidenziato dal luminol appartiene a Sabrina Beccalli e non solo quello riscontrato lungo le scale che portano all'appartamento di via Portofranco ma pure le piccole macchie scoperte sulla ringhiera della rampa schizzi più che indizi di un gocciolamento quanto alla roncola sequestrata nella casa dove la 39enne ha trascorso le ultime ore di vita con Alessandro Pasini non è l'arma del delitto bisogna attendere il 21 marzo 2021 per avere la certezza che le ossa ritrovate nell'auto data alle fiamme appartengono a Sabrina la novità arriva dall'avvocato che assiste la famiglia della donna il quale si è recato nel laboratorio di Cristina Cattaneo l'anatomopatologa incaricata dal sostituto procuratore di analizzare le ossa trovate nella panda carbonizzata stamattina ci siamo visti abbiamo solo la certezza che è lei non è stato necessario fare il DNA la certezza è arrivata da una ortopantografia delle arcate dentali spiega l'avvocato il 16 marzo 2021 dalle indiscrezioni sulle perizie medico-legali emerge che Sabrina aveva assunto delle sostanze le quali erano entrate in circolazione nell'organismo dalle ore immediatamente precedenti il decesso ad accertarlo è stata l'analisi tossicologica delle esigue ma sufficienti porzioni di tessuti molli scoperte nell'abitacolo distrutto dal fuoco assieme alle ossa della donna che era solita assumere anche antidepressivi quanto riscontrato e di rilevanza indiscussa in quanto Alessandro Pasini aveva sempre sostenuto di non aver ucciso l'amica ma che era stata un'overdose a stroncarla il primo maggio si riportano ulteriori novità rappresentate dal ritrovamento sui resti della donna di alcune sostanze chimiche che potrebbero essere state originate dalla combustione o da altri fattori ad esempio tali sostanze sono compatibili con quanto prodotto da un colpo d'arma da fuoco non è stato invece possibile stabilire se il trauma meccanico riscontrato sulla mandibola e l'area mascellare destra risalga prima o dopo la morte della donna potrebbe essere stato procurato da un colpo inferto volontariamente da un altro individuo configurarsi come il risultato di una caduta in bagno è questa la versione di Pasini o essere la conseguenza del trasporto del corpo fin dentro l'abitacolo della Fiat Panda il 18 luglio mentre il parroco di San Bernardino si prepara a dare l'ultimo saluto a Sabrina l'uomo accusato di averla uccisa volontariamente e di aver distrutto il cadavere sceglie di essere giudicato con il rito abbreviato il primo luglio alle 13 arriva il furgone blindato che conduce Alessandro Pasini al palazzo di giustizia di Cremona ad attendere l'imputato ci sono anche Gregorio e Simona Beccalli due dei fratelli della vittima voglio guardarlo in faccia dice Simona all'arrivo di Pasini al termine dell'udienza preliminare l'avvocato difensore conferma che il giudice ha accettato la richiesta di giudizio abbreviato il legale di parte civile nominato dai familiari di Sabrina sostiene che nel sangue filtrato nell'intonaco c'è la chiave del giallo in particolare vi sono raschiature a oltre un metro d'altezza lungo il corridoio quei graffi sul muro come rilevato dal reagente impiegato dai RIS celavano gocce di sangue che evidentemente Alessandro aveva cercato di eliminare esattamente come aveva fatto lavando il pianerottolo ma non solo altre evidenze ematiche sono state riscontrate dietro il battiscopa del pavimento sempre nel locale che dalla lavanderia porta all'ingresso secondo la ricostruzione dell'accusa le 4 di notte Pasini ha portato l'amica Sabrina nell'appartamento di via Portofranco con l'obiettivo di avere rapporti intimi al rifiuto della donna sono seguiti l'alite e l'omicidio con modalità non meglio precisate infatti quei poveri resti recuperati dalla panda dai carabinieri del RIS di Parma poi analizzati non hanno consentito di stabilire con esattezza né la dinamica né la causa della morte nella perizia si parla di trauma meccanico alla mandibola e alla mascella laterale destra di natura contusiva eppure di due fratture al cranio gli esperti ipotizzano che la combinazione delle due fratture unita alla presenza di microfocolai emorragici cerebrali potrebbe addebitarsi a un trauma al capo subito poco prima della morte Pasini però sostiene non l'ho uccisa Sabrina era una mia amica abbiamo consumato la polverina e l'ho uccisa un'overdose io stavo dormendo ho sentito un rumore era in bagno riversata sulla vasca lui c'è da dire questo non ha mai cambiato versione è accusato di occultamento e distruzione di cadavere di incendio aggravato da cui deriva un pericolo per la pubblica incolumità e di crollo di edificio il pm ha chiesto per Alessandro Pasini la condanna a 30 anni per omicidio più 12 anni per gli altri reati in totale 42 anni più lo sconto di un terzo per il rito abbreviato arrivando quindi a 28 anni di reclusione i giudici del tribunale di Cremona però hanno condannato Alessandro Pasini a soli 6 anni di reclusione la sorella di Sabrina Simona Beccalli si scaglia senza freni contro la giustizia italiana l'ha uccisa e bruciata solo 6 anni per aver ucciso una donna afferma in realtà a dirla tutta l'uomo viene poi scarcerato immediatamente a cadere sono stati gli indizi che lo avevano portato in cella il 18 agosto del 2020 Alessandro Pasini è infatti libero dal 29 ottobre 2021 non ha ucciso Sabrina l'accusa di omicidio volontario e quella di crollo di edifici per il tubo del gas staccato non reggono la condanna dunque si limita a occultamento e distruzione di cadavere e incendio sull'auto di Sabrina in tutto il periodo di detenzione nel carcere di Monza un anno due mesi dieci giorni Alessandro non è mai crollato anzi ha ripetuto fino all'ossessione di non aver ucciso Sabrina dice è morta per un overdose sì ho caricato sulla Fiat Panda il cadavere ho dato fuoco all'auto perché ero nel panico ma non ho ucciso Sabrina il 25 novembre 2022 si è tenuto il processo d'appello la sentenza sarà emessa il 10 marzo del 2023 quindi davvero a breve e ovviamente vi terrò aggiornati come afferma Simona Beccalli di sua sorella Sabrina ha diritto di riposare in pace il suo cranio repertato e studiato come un puzzle pezzo per pezzo poi numerato il femore una scatolina con i denti e la mandibola ecco tutto ciò a cui Simona ha potuto dare l'ultimo saluto sua sorella è morta barbaricamente e il suo corpo è stato pure smaltito perché è inspiegabilmente scambiato per quello di un cane le sorelle di Sabrina chiedono giustizia quantomeno per suo figlio detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video fatemi sapere se questo video è stato per voi interessante io spero di sì ovviamente fatemi sapere se conoscevate questo caso oppure no e soprattutto sono curiosa di sapere cosa ne pensate della sentenza insomma come al solito come vi dico sempre ci becchiamo qui sotto nei commenti io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.